insieme con il suo operatore Simone Taini e al seguito delle truppe ucraine è entrata in territorio russo, questo lo fanno, lei è stata la prima al mondo a farla, poi l'hanno fatto anche altri, ma sono le basi del mestiere per persone coraggiose, stai lì, loro vanno e tu vai, sono quelli embedded, come si diceva, al seguito incastrati all'interno dell'esercito ucraino e quindi ti ha fatto impressione questa richiesta? Ormai questa cosa va avanti dal 16 di agosto, quindi è un po' come essere dentro il processo di Kafka, adesso è diventata operativa, adesso chiedono addirittura l'estradizione, quindi chiedono all'Italia di consegnarci alle prigioni russe, di fatto il tribunale del Kursk, di questa regione russa invasa dagli ucraini, ha dato seguito a una richiesta del governo espressione di Putin, quindi è stato prima il ministero dell'interno, è chiaro che è un po' sorprendente rispetto al fatto che tu parli di una zona di combattimenti, di una zona che quindi non era più sotto il controllo russo, era invasa dagli ucraini e di fatto gli ucraini volevano dimostrare di avere il controllo di questa città di Suggia, questo era il loro intento, per questo hanno consentito che li seguissimo, la stessa cosa hanno fatto i russi quando hanno invaso, cioè per due anni e mezzo hanno portato embedded, anche i giornalisti italiani peraltro, io dico è sempre importante esserci, che sia un fronte o che sia l'altro, l'occhio di un cronista, ma anche per i civili che sono lì, perché una delle contestazioni è stata ma avete parlato con i cittadini russi rimasti lì, ma è la garanzia per la salute di qualunque civile, il fatto che un giornalista possa verificare le condizioni in cui vengono trattate le persone civili? Senti, il governo italiano risponde alla picca, motivando come già era motivato, anzi, forse è protestato con maggiore energia, stasera è stata già una forte protesta dell'ambasciata Ucraina a Roma, ma quella era abbastanza scontata. Allora, Lucia Goracci, che è una brava inviata del Tg3 a Beirut, si stava a Beirut e oggi abbiamo appreso che ieri è stata fermata, il suo autista è stato malmenato, è stato bicchiato e purtroppo è morto di infarto. Come ci si trova in situazioni? Quante volte si è trovato in situazioni di pericolo in cui dici, ma chissà come va a finire? Ma quando sei sulla linea del fronte, la cosiddetta zero line, appunto di contatto tra i due eserciti praticamente sempre, nel senso che la morte la guardi un po' in faccia e ci sono tutte queste persone che ci aiutano e che mettono a disposizione la loro vita per garantire la libertà di stampa, quella che si vuole in un qualche modo reprimere, che spesso appunto ti ospitano nelle loro famiglie, cercano di proteggerti perché anche paradossalmente questo il loro senso etico, di proteggere i giornalisti, credo che quello che abbia fatto questa persona quando ha incontrato Hezbollah, poi il cuore non ha retto, per cui c'è una grande responsabilità anche da parte nostra, di tutte queste persone che non firmano i pezzi, che non si vedono, che sono trasparenti e che però... ma che sono indispensabili perché poi i pezzi si facciano e vanno... c'è un esercito veramente di sconosciuti ai quali non dobbiamo una infinita, un'infinita gratitudine. Ho sempre pensato alla solitudine degli inviati. Ma la solitudine c'è in quella frustrazione del non poter trasmettere tutto l'orrore che vedi per questioni etiche, perché non è giusto per le vittime, non è giusto per chi guarda, ma tornare indietro con quelle 24 ore più 24 ore più due anni e mezzo e sentire di non poter raccontare tutta quella realtà, di fatto questa è una guerra di aggressione per cui noi siamo stati proprio poi vicino ai civili, vicino alle famiglie, ecco quella è una solitudine ineliminabile che tu hai, perché non puoi ridare tutta quella giustizia che chi ti si affida, tutti questi civili che ci raccontano la loro verità, ti dà tra le mani chiedendo un po' di giustizia, ecco quella frustrazione, quel dolore lì esprime la solitudine dell'inviato. Poi torni e però come oggi sono andata in una scuola di San Severo in provincia di Foggia e ho incontrato i ragazzi e quando vedi in loro accendersi lo sguardo e capire che guardando le tue immagini, le immagini mie e dei colleghi sentono il dolore delle persone che hai incontrato e allora ti restituisce proprio tutto il senso anche di una comunità. Allora io non ti vedo tanto. non ti vedo tanto. Grazie a tutti.